Renato Battiston è il presidente dell'associazione Amici del Cuore, con il quale noi corroboriamo da molti anni. Renato, chiedo a te per la tua esperienza nell'associazione e su tutte le problematiche del cuore, qual è oggi il rapporto che la tua associazione ha con il mondo del volontariato e con la cittadinanza proprio per dare sostegno alle persone ammalate di cuore o che sono state ammalate di cuore? Grazie. Grazie della domanda. Certamente il tempo è quello che è, quindi rispondere con circoscrizione è molto difficile. Posso soltanto dire che l'impegno dell'associazione verso il volontariato, ma verso anche tutte le persone che si trovano ad avere problemi cardiovascolari, l'associazione è stata negli anni un valido aiuto, soprattutto perché ha sviluppato delle iniziative importanti per aiutare certamente il cardiopatico e quindi ginnastica di mantenimento, riabilitazione, una serie di iniziative che poi magari illustrerò. Ma soprattutto quello che è stato il nostro fiore all'occhiello è di avviare un'iniziativa relativa alla prevenzione delle malattie partendo dai giovani, quindi cercando un rapporto costante e continuo con le scuole, quindi elementari, medie e superiori. Questo è quello che posso dire in pochi minuti. Grazie a tutti.